Il Ticino ha allentato la stretta già da questa settimana, nonostante questo molti valichi restano chiusi. Dal prossimo 27 aprile la riapertura delle attività riguarderà non solo cantiere e aziende, ma anche centri commerciali del faidaitè, del giardinaggio, le strutture che offrono servizio alla persona, come parrucchieri e centri estetici. Si potrà ripartire naturalmente soltanto se si sarà in grado di garantire le disposizioni di sicurezza. Con tanti valichi chiusi però i disagi per i frontalieri si moltiplicano. A far sentire la loro voce sono i residenti della Valle Intelvi, attraverso il consigliere provinciale, nonché sindaco di centro Valle Intelvi, Mario Pozzi. Il valico della Valmara chiuso è un grosso problema per i frontalieri della Valle, spiega Pozzi. Parliamo di circa 1200 lavoratori. Il 60% di loro avrebbe ricominciato a recarsi sul posto di lavoro in Svizzera da questa settimana, affrontando lunghe code sia all'andata che al ritorno a casa. Con il valico della Valmara chiuso, infatti, i frontalieri provenienti dalla Valle Intelvi sono costretti a passare da Porlezza, incontrando molto traffico. Purtroppo con l'apertura delle ditte in Svizzera si è creato un problema, avendo praticamente il valico della Valmara chiuso. Io porto le testimonianze di diversi operatori, porto la testimonianza proprio diretta da alcuni infermieri, che facendo, nonostante questo problema diciamo di Covid, lavorano già un po' in difficoltà, con un po' di tensione, con un po' di paura. E poi facendo dei turni anche di notte, quando tornano a casa o devono ripartire per il lavoro, si devono fare 40-50 km praticamente per tornare a casa. Crea l'intasamento su Porlezza e l'intasamento poi su Ponte Chiasso, che è l'unica dogana praticamente aperta. Un disagio ulteriore, dice Pozzi, dopo tutto quello che hanno subito i frontalieri in questo periodo di emergenza. Il consigliere si appella dunque all'amministrazione federale delle dogane. Giusto riaprire le attività in sicurezza, conclude Pozzi, ma è necessario riaprire di pari passo anche i valichi, altrimenti diventa un grosso problema.